Novo appuntamento con l'informazione di oggi a nord-est. Due incidenti accaduti oggi a poca distanza l'uno dall'altro hanno richiesto la chiusura del tratto fra Sanstino di Vivenza e il Bivio a 4 a 28 in direzione Trieste. Chiuse anche le entrate di Sanstino e Cessalto verso Trieste e istituita l'uscita obbligatoria a Sanstino. Il primo sinistro, un tamponamento fra tre mezzi pesanti che ha coinvolto anche una bisarca che trasportava un furgone, si è verificato verso le quattordici fra Sanstino e il nodo di Portogruaro. Poco dopo, sulla coda che si era formata a causa del primo incidente, è accaduto un secondo tamponamento, sempre fra mezzi pesanti nel tratto fra Cessalto e Sanstino di Vivenza. Sul posto il personale di autovie e i soccorsi meccanici per liberare le corsie. Un tamponamento dunque che si è verificato nello stesso punto sempre oggi e da oggi chi arriva dalla Slovenia dovrà sottoporsi a tampone molecolare o antigenico non più di 48 ore prima o dopo l'arrivo secondo il DPCM in vigore fino al 15 di gennaio. La Slovenia e la Croazia sono stati infatti inseriti da oggi nei paesi di fascia C, considerati a rischio, come conferma il prefetto di Trieste Valerio Valenti, raggiunto. Il tampone non sarà obbligatorio, ha spiegato il prefetto nei casi particolari elencati nel DPCM, ad esempio chi fa ingresso in Italia per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza, purché vi rimanga per un periodo non superiore ai 5 giorni. Nessun obbligo di test, neanche per coloro che transitano in Italia, per recarsi in altri paesi, purché rimangano per un periodo non superiore alle 36 ore. Sono sempre esentati i lavoratori trasfrontalieri, come era già in vigore. Molta disinformazione, dunque qualche autori mandati indietro, in prevalenza cittadini sloveni o comunque stranieri. Il primo bilancio dei controlli in corso ai valichi di frontiera da parte della Polizia per monitorare gli ingressi in Italia in considerazione di queste nuove misure di sicurezza. Il traffico al valico di Farnetti e agli altri lungo il confine con la Slovenia è abbastanza scarso. Il provvedimento stabilisce appunto che l'entrata in Italia da tutti i paesi dell'Unione Europea e Schengen è consentita solo previa presentazione di tampone antigenico o molecolare. Uno scheletro di donna è stato rinvenuto nell'arena di Verona nel corso di lavori di restauro nell'anfiteatro. Lo scheletro, secondo quanto sia preso, era integro, seppellito nei pressi dell'arco volo 30. L'area interessata dal ritrovamento è stata interdetta e sono in corso accettamenti che permetteranno di dare una datazione al reperto. La compagnia aerea Low Cost Volotea ha colto i primi due Airbus A319 che faranno base all'aeroporto Marco Polo di Venezia, consentendo di aumentare la propria capacità di trasporto passeggeri del 25% per ogni volo. I nuovi aeromobili attestano il piano di sviluppo di Volotea che vuole diventare un operatore 100% Airbus nei prossimi anni. I risultati di uno studio sulla perdita di olfatto e gusto come sintomi del coronavirus condotto dalla Clinica Neurologica dell'Ospedale di Udine e pubblicato sulla rivista Neurology Clinical Practice sono stati posti all'attenzione della comunità scientifica internazionale dalla American Academy of Neurology. L'ho annunciato oggi l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale con una nota. Entro la fine di dicembre Cortina D'Ampezzo, la regina delle Dolomiti, si appresta ad ospitare la prima boutique Louis Vuitton delle Alpi italiane, un progetto fortemente voluto dalla Maison che ha scelto di unire le proprie forze con una delle realtà più note e apprezzate nel panorama retail nazionale, Franz Kraler che ospiterà in via esclusiva, in uno dei propri spazi storici, l'intera gamma di prodotti del brand. Buone energie e tante piccole felicità. È in edicola il nuovo Almanacco Barba Nera. Consigli di buon vivere per la vita in casa, la famiglia, il benessere, l'orto, il giardino e il balcone seguendo la luna e le stagioni. Almanacco Barba Nera 2021, in edicola con due preziosi regali, l'oroscopo 2021 e il calendario La Luna in Casa, per un nuovo prezioso anno. Vi felicità! domani sul Friuli Venezia Giulia, cielo da nuvoloso accoperto con possibilità di qualche debole precipitazione. Al mattino ancora probabile la presenza di foschia e di nubi basse sul Tarvisiano, mentre in giornata sulla fascia alpina più interna ed in quota sarà possibile maggiore presenza di sole. Temperature in pianura minime fra 2 e 5, le massime fra 8 e 10 gradi, sulla costa minime fra 6 e 9, le massime fra 9 e 12 gradi centigradi. Passiamo al Veneto, modesta variabilità con spazi di sereno più presenti in montagna fino al mattino, copertura più significativa un po' ovunque verso sera, specie sulle zone centro-meridionali e durante le ore più fredde, presenza di varie nebbie in pianura e nelle valli. Temperature in montagna prevarà una diminuzione salvo locali lievi contro tendenze delle minime in quota, altrove contenute variazioni di carattere locale. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e di ARPAV, l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nordeste è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.